Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it Continuiamo a parlare di Adobe After Effects con un tutorial gratuito disponibile per tutti coloro che seguono questo canale YouTube Tutorial a tema natalizio Molti mi hanno chiesto ma è possibile fare una nevicata e far sì che poi la neve si posi a terra accumulandosi Mi hanno chiesto un ragazzo in un commento e io in un primo momento ho detto no non è possibile senza utilizzare plugin o comunque Diciamo un materiale di terze parti Poi in realtà studiando un pochettino meglio il plugin delle particelle di After Effects ho trovato un modo per fare quello che state vedendo Ovvero per realizzare una bella nevicata fitta fitta e fare in modo poi che la neve si depositi a terra Imbiancando in questo caso un prato che in origine era verde Ovviamente è una simulazione molto semplice ed elementare Esistono in commercio molti plugin di terze parti che permettono di fare delle cose molto più avanzate con le particelle Oltre a software specifici per la simulazione di fluidi, liquidi e la neve in un certo senso è un liquido, è un fluido Oltre che al fuoco e a tanti altri elementi Però visto che molti di noi non hanno plugin a pagamento installati con After Effects Voglio realizzare questo tutorial e voglio mostrarvi come fare per realizzare l'effetto che state vedendo Senza installare niente Se non After Effects e il plugin Particle World che trovate installato già di default È abbastanza semplice come tutorial e vi invito ovviamente se non sapete utilizzare affatto After Effects A seguire il corso presente su questo canale YouTube Corso riservato agli abbonati L'abbonamento costa solo 3 euro al mese quindi 3 caffè che mi offrite una volta al mese E questo piccolo contributo serve a me chiaramente per andare avanti con questo progetto Quindi io ringrazio già coloro che si sono iscritti e abbonati e coloro che lo faranno magari nelle prossime settimane Bene, bando alle ciance Come fare questo effetto? Iniziamo subito creando una nuova composizione Nevicata La chiamiamo Una raccomandazione Quando sperimentate le particelle After Effects Fatelo con delle risoluzioni basse 1280x720 È una risoluzione che va più che bene per fare delle prove Segnalo questo perché ovviamente utilizzare le particelle La simulazione delle particelle è qualcosa che in assoluto richiede molte risorse al computer Quindi è inutile lavorare in 4k e perdere tempo a fare le simulazioni Se poi non si è soddisfatti del risultato finale Quindi fate degli esperimenti a basse risoluzioni E poi alzate la risoluzione quando siete convinti di quello che state facendo Ok, creiamo la nostra composizione Creiamo subito un nuovo solido Lo chiamiamo neve Anche qua il solido è un colore che è totalmente ininfluente ai fini di questo tutorial Quello che poi andiamo a fare è aggiungere un effetto L'effetto che andiamo ad aggiungere si trova nella categoria simulazione Simulation in inglese E il plugin che dovete trovare è CC Particle World Lo abbiamo già detto nell'altro tutorial quando abbiamo parlato del fuoco Esistono due tipi di plugin per simulare le particelle di default in After Effects Uno è il CC Particle System 2 È un sistema che genera particelle 2D Quindi lavorando sui due assi orizzontale e verticale E l'altro plugin, l'altro effetto che andiamo a utilizzare quest'oggi è il CC Particle World Che lavora anche sull'asse della profondità Quindi sull'asse Z Ecco quello che vedete appena installate O meglio applicate l'effetto al nostro solido Se mandiamo in play noteremo una fontana di fuoco Ovviamente dobbiamo lavorare un pochettino per trasformare questa fontana di fuoco In una nevicata Intanto andiamo a togliere le cose che ci disturbano E che in questo momento non ci servono Nella prima parte del plugin Nella prima sezione Grid and Guides Andiamo a togliere la posizione Il raggio Il motion path Il grid Sono cose che possiamo spegnere E che sostanzialmente nascondono Semplicemente gli elementi grafici Che in questo momento a noi non servono E che comunque non verrebbero renderizzati Poi iniziamo a impostare un po' di valori Il birth rate Impostiamolo a 70 Vogliamo molte particelle prodotte al secondo La longevity la portiamo a 60 secondi Ah non l'ho detto Ovviamente la sequenza deve avere una durata di almeno 60 secondi Quindi un minuto Perché le particelle devono avere il tempo di accumularsi chiaramente per terra Il producer Altro non è che il produttore Ovvero l'oggetto che produce le nostre particelle Di default a zero Noi lo andiamo ad alzare Lo portiamo a meno 2 Può andare bene Anche qui i valori che sto dando sono relativi Dovete fare delle prove anche voi E vedere quello che è il valore che funziona meglio al caso vostro Il raggio della X, della Y e della Z Ovvero la grandezza del nostro producer Deve essere un po' più grande Diamo 3, 3 e 5 E sostanzialmente quello che noi troveremo poi nella nostra composizione Non è altro che una pioggia sostanzialmente Di fuoco in questo caso Ma non vi preoccupate Tra poco cambieremo tutto E sembrerà tutto più simile ad una nevicata Physics La fisica quindi che sta dietro al movimento delle nostre particelle Togliamo explosive Non ci interessa Utilizziamo fractal omni È il tipo di simulazione che vogliamo per la nostra neve La velocity la abbassiamo tantissimo La portiamo a 0,01 Vogliamo che le nostre particelle una volta nate Non abbiano poi una grande energia La neve quando scende Scende delicatamente Un altro valore che abbassiamo è la gravity La gravità la portiamo a 0,005 La neve deve scendere molto molto lentamente Lasciamo gli altri valori così Andiamo indietro ma andiamo in play Inizialmente non vedrete nulla E poi piano piano vedrete appunto Queste particelle che iniziano ad apparire E a cadere lentamente Se vedete che le particelle compaiono troppo presto Alzate il valore del producer Cioè in altre parole Tirate il producer un pochettino più in alto Noi vogliamo che le particelle vengano generate fuori dallo schermo E poi vadano a cadere lentamente Quindi se fate generare le particelle troppo in basso Vedrete un effetto a comparsa che non è quello che vogliamo Ecco Questo è quello che noi stiamo ottenendo Quindi delle particelle che cadono delicatamente Un po' come fossero della neve Ma chiaramente neve in questo momento non sembrano Sono dei trattini delle linee E noi questo lo andiamo a modificare subito Modificando quelle che sono le proprietà delle particelle Non vogliamo come tipo di particella una line Ma vogliamo delle faded sphere Non ricordo la traduzione in italiano Però sostanzialmente vogliamo delle sfere Che sono simili a queste Andiamo a modificare ovviamente il colore delle nostre particelle E le facciamo bianche appena nascono E leggermente azzurrine poco poco quando invecchiano Abbiamo già parlato di che cosa significa Nascita e morte di una particella nello scorso tutorial Quindi quello che stiamo dicendo oggi è molto simile a quello che abbiamo visto già nel vecchio tutorial Quando abbiamo generato del fuoco Quindi recuperatelo per avere informazioni più in dettaglio La differenza di questo plugin con l'altro Ricordo è solo che qui lavoriamo anche sull'asse della profondità Quindi l'asse Z Aggiungiamo un po' di casualità alle nostre particelle Modificando il parametro random seed sotto ad extras Diamo un valore alto ma non troppo E questo è quello che abbiamo ottenuto Rimandiamo in play e abbiamo la nostra nevicata Quindi la neve viene prodotta Le particelle vengono prodotte E poi cadono delicatamente a terra Abbiamo creato la nostra nevicata Chiaramente noi possiamo giocare molto con questi parametri Possiamo per esempio anche modificare la grandezza delle particelle quando nascono E la grandezza delle particelle quando muoiono È un buon modo per dare un po' di varietà alla nostra neve Ai nostri fiocchi di neve Quindi per esempio le particelle quando nascono Possono essere molto piccole Per poi andarsi ad ingrandire molto Prima di morire e di scomparire Ecco proviamoli questi valori Non sto utilizzando dei valori assoluti Sta a voi giocare con questi valori E trovare quelli che chiaramente fanno al caso vostro Se le particelle sono ancora troppo grandi Andate a diminuire questo valore Anche la size variation andiamo ad aumentare In altre parole diamo della varietà Abbiamo impostato una dimensione di nascita e di morte Ma con questo valore diamo un po' più di casualità A questi due valori In maniera tale che le particelle non abbiano tutte la stessa grandezza L'opacità massima possiamo aumentarla Possiamo diminuirla Giocate con questo valore Molto intuitivo L'opacità massima indica quanto possono essere opache le particelle al massimo 100% significa che le particelle possono anche essere completamente opache Quindi visibili al 100% Lasciamo tutto il resto così E per fare in modo che le nostre particelle si accumulino al suolo Dobbiamo andare ancora una volta nella sezione Physics Nella sezione Floor E abilitare chiaramente la modalità Floor Action Da known a glue Colla in italiano Questo fa sì che le nostre particelle Vadano a depositarsi al suolo quando cadono Vedete? È quello che più o meno sta accadendo Ovviamente il nostro suolo qui è molto alto Il nostro terreno è molto alto Potremmo decidere di abbassare il terreno Sempre nella sezione Floor Floor Position È impostato a 0,2 Potremmo indicare ad After Effects Di abbassare un pochettino il Floor Ok? Ovvero la posizione del nostro terreno In questo caso può essere utile accendere la visualizzazione della ground Per avere una, diciamo, un'indicazione di massima Su dove si trova il nostro terreno Ok? Non abbiamo detto nulla del terreno vero e proprio Se noi abbiamo una texture, per esempio Una texture che riproduce del terreno, dell'erba Trasformiamo questo livello in un livello 3D Lo andiamo a ruotare E lo andiamo a posizionare Per farlo combaciare più o meno Ecco, con il terreno Delle nostre particelle Quindi così è ancora un po' alto Lo andiamo ad abbassare Magari applichiamo anche una maschera Alla nostro terreno Per renderlo di una forma simile Al terreno delle nostre particelle Quindi applichiamo una maschera molto semplice Che serve un po' a nascondere, no? Il terreno nelle parti in cui Non vogliamo che sia visibile Ecco qui, una maschera molto rapida Ok Potete lavorarci, possiamo andare a sfumare un pochettino la nostra maschera Per renderla magari meno densa I confini meno densi E potremo per esempio andare ad applicare una telecamera Sia l'effetto delle particelle Sia il nostro terreno Sono oggetti 3D Quindi quando andremo a creare una videocamera Noi possiamo muovere la camera In questo ambiente Ecco, abbassiamo ancora un pochettino il terreno E andiamo ad animare per esempio la camera Facendo in modo che all'inizio Magari noi siamo molto avanti Sto utilizzando il tasto C della tastiera Per muovermi con la camera Vedete, posso Premendo ripetutamente il tasto C Della tastiera Vado a modificare il tipo di strumento Che mi permette di muovere la camera In questo caso Una sorta di zoom Quindi vado ad animare adesso la telecamera Quindi tasto P e tasto A Per animare la posizione della camera Noi vogliamo che in questo punto Noi ci troviamo in avanti Per poi andare leggermente indietro E scoprire il nostro prato Ecco, ovviamente dopo aver animato la vostra videocamera Potete veramente giocare con tanti parametri Potete per esempio andare a modificare la mappa dell'opacità Sempre partendo dalla nascita fino alla morte Potete utilizzare invece del faded sphere Lo shaded sphere E andare a modificare ancora il parametro per esempio Di transfer mode E impostarlo su add Aggiungi E il volume shade Al 38% all'incirca Per dare un po' di solidità in più alla nostra simulazione Ci sono tante cose che è possibile andare a fare E chiaramente il consiglio è provate, giocate, modificate i parametri Per il momento vi ringrazio Se volete imparare di più su After Effects C'è il corso per gli abbonati disponibile su questo canale YouTube C'è anche il corso completo di Premiere Pro E il corso di audition che stiamo facendo in questo periodo Il costo per abbonarsi a questo canale è di 3 euro al mese Quindi 3 caffè mi offrite voi una volta al mese Questo piccolo contributo mi aiuta ovviamente a portare avanti questi progetti Se vi è piaciuto questo video mettete un like Commentate, condividete con i vostri amici E iscrivetevi a questo canale ovviamente almeno se non lo avete ancora fatto Grazie, auguri, buone feste E ci vediamo e ci sentiamo nel 2023 Ciao